pensate a questa cosa, perché noi dobbiamo adesso, dopo tutto quello che abbiamo passato secondo me dobbiamo chiudere gli occhi e valorizzare questi momenti perché non era detto che ci fosse regalata una serata così e quindi noi dobbiamo essere grati per questa cosa e dobbiamo prometterci che a sì cosa non sanno formare mai più si è d'accordo? io di questo sono veramente convinto bellissima serata chi ne scende bella una collanata come mi piace a me una collanata come mi fa ora, ora, fine e per sempre io mi piace anche vedervi devo dire che c'è qualcuno qui là ancora con bella mutandina in fascia che io francamente dirà il rispetto delle regole che alzaccio quando si è stato il tuo comune? io credo francamente che quei pochi che stanno con la schiena rispetto a tutti ma non credo che l'ho salvato solo un capito? cioè se si muro, muro tutto il tuo comune io credo è così ma io credo che ci muro che mi faccio e ci faccio scopare qua per cattillipa io posso ci qua per Europa cattillipa bravo li non va a dire in attico no sempre chi l'hai? guarda là che l'hai là come sta benetto forza Napoli proprio che si è mangiato lui sempre sempre allora io perché allora so in un momento in cui sono esausco cioè io non ce la faccio più e tutti si tarandè e tutti si corrono non ce la faccio più io voglio continuare a vivere come vivevo due anni fa io voglio decidere come facciamo lì posso decidere? perché hanno deciso lì? voglio decidere avete capito cosa succede? ma cosa facciamo? non ho capito come si muoveva l'anno fa che si muoveva lo stesso voi mi ricordate che si muoveva lo stesso non è che mi ha saltato la vita ci guarda che la tu stia cazzo cosa faccio che manca pure l'altro va pure lo sciato tuoi che tu vuoi andato tenendo con il cavolo con il fegato con tutte queste porchette guardate mangiate che è mia aumenta pure e sta girando la cosa e sta pisci sai non sai io voglio dire ma dov'è il sindaco? ma lo dico